Buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Paolo Andrea e rappresento l'assumitomo chemical per quanto riguarda l'Italia e seguo la parte tecnica per il nord Italia. Un ringraziamento agli organizzatori per il forum, che anche quest'anno siamo qui presenti a presentare le nostre novità, e parto subito con la mia relazione. La mia relazione vede, come anticipato da Fiorello, una presentazione o comunque un'introduzione di due prodotti, che è un fungicida, che è il Nandomaxi, e un insetticida, che è l'Esson Valerate, su Mialfa Eco. Partiamo subito con il fungicida. Nandomaxi è un prodotto a base di fluazinam, ha un'etichetta che vede la registrazione per quanto riguarda la peronospora e la botrite, ma come vedremo anche nella presentazione, ha un'attività anche importante per altri patogeni. Due parole sul fluazinam. Il fluazinam è una molecola che è stata scoperta nei primi anni 90, appartiene praticamente, va a interagire con quello che è la respirazione del patogeno, appartiene a un gruppo di lavoro, comunque va a interfacciarsi con la disaccoppiazione per quanto riguarda la fosforizzazione ossidasi, e garantisce anche la caratteristica di avere una bassa resistenza per quanto riguarda alcuni patogeni. Inoltre, proprio perché ha un meccanismo particolarmente specifico, o comunque prende in considerazione anche altre parti del patogeno, come l'interruzione energetica, dà un'ulteriore sicurezza per quanto riguarda la gestione della resistenza e anche dell'efficacia. Caratteristiche importanti del fluazinam riguarda praticamente il coefficiente K-Otanolio-acqua, che è una caratteristica molto importante di questa molecola, che consente di legarsi e di acere in maniera molto persistente, al pari anche dei vari prodotti di contatto, come abbiamo menzionato precedentemente, di Tiano e Folpet. La caratteristica di questa ulteriore, appunto di questa caratteristica, prevede anche un comportamento di contatto, quindi funziona e ha un'attività molto elevata per la superficie di invegetazione che viene bagnata. Non segue lo sviluppo attivo, comunque, dei tracci della vite, quindi deve essere messo magari in miscelia con degli altri prodotti traslaminari o sistemici. Il fluazinam ha una caratteristica molto importante, che è particolarmente attivo per una serie di patogeni, se parliamo della viticoltura, ovviamente, peronospora e botrite, ma anche oidio e black rot. Da etichetta sono riportati i dosaggi, appunto, le omologazioni in maniera specifica per peronospora e botrite, e per peronospora abbiamo l'indicazione del dosaggio 100 ml etolitro per un massimo di un litro ettero, per la botrite abbiamo un dosaggio che va dai 100 ai 150 ml etolitro per un dosaggio massimo di un litro e mezzo. Da etichetta abbiamo anche l'indicazione che ha un contenimento importante sull'uidio e marciume nero. Il numero di interventi consentiti sono tre, con un intervaglio molto corto che va dagli 8 ai 10 giorni. Tempo di intervaglio 28 giorni. Il prodotto può essere applicato dalla fase, praticamente, dalle affioriture in poi, proprio perché va a sfruttare quelle che sono le caratteristiche di adesione del principio attivo. In questa fase ricordiamo come le infiorescenze sono erbacee, quindi molto soggette all'attacco della peronospora, ma anche contemporaneamente come, ad esempio, le accadute delle caliptre o dei fiori per quanto riguarda il grappolo, possono facilitare l'entrata delle abotrite, soprattutto le infezioni primarie o comunque molto anticipate. L'utilizzo di Nando Maxi prevede alcune indicazioni per utilizzarlo nel migliore dei modi, in quanto non va mescolato con prodotti base olio in generale, è un prodotto che deve mantenere una distanza di 14 giorni sempre con i prodotti base olio, 14 giorni prima e 14 giorni dopo il posizionamento, l'applicazione, ed inoltre non va miscelato con il metildino cup. Questo principio attivo può dare alcuni effetti fitotossici, magari con alcune varietà come Moscato dei Cogli e Trebbiano. È inserito nel disciplinare di lotto integrata, come ha detto il dottor Carraro precedentemente, nel gruppo di Dityanon e di Folpet, ovviamente io ho riportato la slide del 2023, quest'anno il numero di applicazioni saranno portate da 6 a 7, ed è inserito anche per quanto riguarda la gestione delle abotrite. Alcune prove fatte nel corso degli anni, questa è una prova fatta dall'Università di Bologna nel 2019, è una prova di efficacia pura, quindi il prodotto viene molto testato e verificato in maniera importante, in questo caso abbiamo una prova fatta su Sangiovese, praticamente si va a rilevare la presenza delle malattie sul grappolo, e vediamo come il Nando Maxi, paragonato a un altro prodotto di copertura come il Folpet, sia a un intervallio di giorni particolarmente corto come a 7 e come a 10, abbia un'attività molto importante per questo patogeno. Sulle abotrite, posizionate in maniera specifica come mostra questa prova, vediamo come anche il Nando Maxi, che è appunto un unico principio attivo, abbia un'attività molto importante, anche se confrontato con lo standard di riferimento composto da Ciprodinil e Fudioxonil. Per quanto riguarda la parte dell'insetticida, il prodotto che vi illustrerò è SumiAlfaEco, è un piretroide di Sumitomo, che è stato sviluppato e registrato da Sumitomo Chemical, è un prodotto che si differenzia dagli altri piretroidi, in quanto ha un'appartenenza della famiglia dei benzi carbossidati, come tutti i piretroidi ha un'azione di contatto e di ingestione, inoltre la molecola ha una caratteristica molto importante, che è quella di avere un effetto repellente, che può essere utile sia per i patogeni, ma anche per gli insetti utili. Ha appunto un profilo tossicologico anche per gli insetti utili, e anche per le api abbastanza favorevoli, tant'è che sono state effettuate in Italia, ma anche in Europa, alcune prove di selettività, e questo favorisce anche la registrazione del principio attivo a livello europeo. Da etichetta abbiamo la registrazione sulle cicaline, quindi molto generica, dove all'interno cadono in maniera specifica appunto gli oscafuideo, le empoasca, le asigina, ed eventualmente anche l'erasmoneura vulnerata. Da etichetta sono previsti due trattamenti, distanziati l'uno dagli altri da 14 giorni, e un tempo di carenza di 14 giorni, per quanto riguarda il primo della raccolta. Anche questa la consideriamo una novità importante, che va praticamente a potenziare la possibilità di utilizzo delle molecole presenti nel disciplinare dell'otto integrata, va appunto a collocarsi con le andacialiotrine e etofenprox come candidati alla sostituzione, quindi un'unica applicazione praticamente possibile di queste tre principi attivi nel corso dell'annata. Come prove sono state fatte delle prove di efficaci di selettività, efficacia parliamo praticamente di scafuideo titanus, selettività per quanto riguarda i fitoseidi, in questo caso il sumi alfa eco è stato praticamente paragonato con altri due piretroidi, uno base taufo valinate e l'atto etofenprox, dove abbiamo un posizionamento negli stadi larvali L1 e L5, quando l'insetto non vuole, quindi può essere ben colpito. Vediamo come l'attività che è rappresentato dalla linea rossa del sumi alfa eco sia paritetico praticamente a uno standard di riferimento come l'etofenprox, che è già un prodotto ampiamente utilizzato. Se dobbiamo vedere anche l'aspetto della selettività dei fitoseidi, un'unica applicazione di esso invalierate non va tanto a distanziarsi da quello che è praticamente le parcelle non trattate in ambito di numero di fitoseidi, che è un parametro molto importante per mantenere un equilibrio corretto all'interno del vigneto. Io avrei terminato, spero di essere rimasto all'interno dei tempi, se ci sono domande sono a disposizione.